ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video diverso dal solito perché in questo video vi farò vedere i miglioramenti che ho fatto alla mia postazione iniziamo subito ragazzi già state vedendo ho cambiato le cuffie ragazzi via quelle vecchie che ora stanno non mi ricordo le buttate boh non lo so le ho messe da qualche parte e benvenuti a queste nuove ragazzi che come ben vedete sono queste un po' tipo nere le ho prese nere perché sono nero diciamo il mio secondo colore preferito come ben vedete ragazzi queste sono le cuffie un po' non me le tolgo per farmele vedere meglio qui come ben vedete c'hanno una roba di comfort qui ovviamente c'hanno questa cucina qua che serve per rilassamento orecchia dopo c'è il microfono come ben vedete e questo lo metto in prospettiva guardate che figo molto bello questa è la cuffia ragazzi c'è pure qua scritto proprio perché c'è scritto trans gaming proprio ragazzi messo là proprio così perché quando passano gli elicotteri dall'alto non vedo che noi siamo dei trans gamer e poi ragazzi lo sto usando proprio in questo momento infatti se sentite la mia voce cambiata è proprio per questo motivo qui ecco qui ragazzi il microfono questo qui l'ho comprato molto bello ve lo consiglio se siete agli inizi dopo ragazzi per ultimo perché c'è sempre l'ultimo ho comprato ho comprato ho scioppato questo ragazzi aspetta eccolo un controller per giocare a rocket league l'ho preso con il filo ragazzi perché è molto comunque una comodità che non devi mettere sotto carica poi direttamente collegato alla playstation e quindi i comandi proprio li prende subito comunque ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere anche come la voce se è cambiata se è qualcosa ora tutti i video con la webcam usciranno sempre così vi devo dire la verità ragazzi più vado avanti più diventa difficile editare i video però ragazzi sono convinto che se continuerò così forse se dio vorrà arriverò a un traguardo questo video iscrivetevi perché mi fate felice e mi fate portare avanti le serie proprio mi costringete c'è anche perla che ve lo sto dicendo comunque ragazzi ricapitolando le migliorie che ho fatto quest'anno alla mia postazione sono state il microfono cuffie controller e questa bellissima sedia da gaming comunque l'ho presa prima 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 questa sedia andatevi a vedere il video che ho fatto a riguardo proprio si chiama la mia nuova sedia da gaming se lo volete vedere andatelo pure a vedere se l'avete visto grandi comunque niente ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video e quindi niente ciao a tutti ragazzi ciao 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 ciao